Al posto di un bel agriturismo ristrutturato, i finanzieri si sono trovati di fronte a un vero e proprio cantiere edile. Una truffa da 200.000 euro e un tentativo di truffa da 197.000 euro sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Piacenza nell'ambito dei controlli di contrasto agli sprechi e agli illeciti in materia di spesa pubblica nel settore degli aiuti all'agricoltura. I finanzieri hanno accertato che un imprenditore agricolo, con la complicità di un professionista e di un ex funzionario della provincia, aveva ottenuto illecitamente dalla regione un finanziamento di 200.000 euro per il recupero di immobili da destinare ad attività agrituristica. L'imprenditore aveva inoltrato anche una nuova domanda nel 2016 con la complicità di un agronomo, questa volta per un finanziamento da 197.000 euro, attestando falsamente anche in questa circostanza il possesso dei requisiti necessari all'esercizio dell'attività ricettiva, nonché l'ampliamento dell'attività stessa, che però era inesistente. L'uomo è stato denunciato insieme ai due professionisti per truffa e tentata truffa aggravata, mentre l'ex funzionario della provincia è stato denunciato per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. Contestualmente è stata proposta alla regione, ente gestore della spesa, l'azione di recupero delle somme percepite e l'applicazione di una maxi-sanzione amministrativa di 150.000 euro.